Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 non puo che inna kaccia me don puo ok di lo pong zanle ya vi bilo si è eschne te kare chai me bilo si è te kare puo le lalo me te puo che inna kaccia me na puo che inna kaccia me don puo di lo si è eschne te kare chai me ok no di lo di tamma di lo pong zanle neve di lo mio te va pi o di lo mio di e song di ya o tu la vana di e song go ya lo si è piaccia ya o no ok di tamma di lo mio non sono ma di lo pong zanle ya vi sui di ne a le ma tu o pong ma dai di lo mio e e e c'i lai pan no bilo si è di pao te ma zanle pong ma dai tu o puo le le tato ba di lo puo che inna kaccia me di lo pong zanle ya vi sui di ne a ma di lo pong zanle ya vi sui di ma e e to di lo mio cei lai pan no c'è il bilo si è chè nè ca te ne chè nè c'è nè c'è il bilo si è di ma al ca te ne ton pang miang ma ton pang miang ma tu dai da dai tu dai pa di lo mio asso in tu di lo pong chanle piettavi no asso ne song ne aro tu do bawe no di lo pong chanle bilo si è tu chè nè ca chè nè ca to be tu piang lei me no piang lei bilo si è bong ma dai hli da ca ii lomba ok a la sui appu e to ye di nabali atam po no pu e to ye nabali da miang ma patama song chanle ka te ne ton le chanle ka ye to ba chanle ka to be lo si ye di di al ca pao ma ve di pao ma di pao ma song tui de pao ma apu te pu te pu bilo si è chanle ka bilo si è di pao te ma ve te pu ta to me di lo mio ne pu no di pao le te ma di lo mio apu le ne pu bilo si è chanle ka chanle ka to be lo si è di ma di di al ca di al ca pu ye ne pu ye a tre ma to go di lo mio talong me pu le rui da pu chanle ka chanle ka di pao te ma ve da pu chanle ka chanle ka di pao te ma ve na pu ya vi ti ane pu ye a tre ma di al cao maHa hiとか chanle ka chanle ka chanle ka to be di ba ma chen de khá. Nota de phukta tu me holo ti lo pong tans lè, no, asa ma, bie lo xiuen chen de khá. Ti lo pong tans lè, dai me di a te nero ma. Di lo me o don fuk, tong pu, di a sama, teu pi access dor me o, di dàn long bie o tu dò bu no. Di dàn long bie o tu dò bu, di a song o yau lo xiuen, piang jing iak aug no, di song o yau lo xiuen piang treme no. ok di tamma di lo nea di lo no so nea lego io nevi so ye to po ma dai metto chanita katovi di ma po ma dai metto la bar da fu chanita kha na fu chanita kha ok di lo di nea yabbi so ye chanita kha chanita katovi lo si ye di ma di non song pao ma di pao qi qi thai mawe to da fu chanita kha di pao thai mawe da fu ta to me ok ok ala su di pao thai ma na fu yabbi no bi lo si ye chanita kha chanita kha to bi lo si ye di chanye di nebe ya chanye di ne tong tongku miang ma tongku miang a pao thai mawe te bido dai da dai to me di lo pong zangli ba no di non song ma di lo pong zangli ne santa parè ok ala su ye pui te pui ne pui to tong tongui bibi no nbeo no di lo miugbe ye biro te pao e no po di pong zangli taimba be me la pao e no bi lo si ye pui to bi lo si ye pui leo te me pui leo te putue ching de kha bi lo si ye piang le men no bi lo si ye di ma eish le de kha lo le men no ok ala su ye di ma te pui ne pui tong vui yabbi su ye nabani le pui ye patamata o te me no patamata song ching konek kha to me de ne te le ng a chao konek kha to bi lo si ye kuna di eish lo ta de pao thai mawe to di lo meo eish ne be piang lo men no di lo meo eish lo lai pa di lo pong zangli pei a bi lo si ye ching na kha ching na kha to bi lo si ye di ma di di niya mawe di apu le ye asa patamata apu le ye tei mawe piang lo si ye kuna kha to bi lo si ye di pao thai mawe di da 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 okay no di pong zangli da asa patamata lwa piang lo si ye ching na kha ching na kha to bi di jare ma eish ne chay me ching na kha di itay ma la Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma lei è dimenticato il nome ok di loro buona lino di ne ama di età di ma di loro buona lì ne sono da pari ok è la sua in nava lei poi è due di attaccato piano meno c'è da kato vi togo piano le bian pomata di ne ama è stacca lo me è stacca lo più rossi c'è n'acca di ne tog le nga c'è n'acca tobi l'ossi di dai ma di es lo te pago tempawe di pago tempawe dai da dai bloc me di lo pago da lì no ات sang 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 pic sang pic sang sang pic sang d n j sang le nga c'è nga bilo c'è di ma di vipo tema lè dai da dai c'è naka dai da dai di lopong zanle no bilo c'è nga c'è nga c'è nga c'è nga nga c'è nga c'è o bilo c'è nga c'è nga çıktoppii lo tornava no ti sono io luci e ti da io no ok di ne amati non va ne va ne puoi edulia tamma bono di non sonia lego yalki sui e ti lo ne ha lego yalki sui e di ma tu pomade a me vi bong zane to toba ilo che c'è n'acca tene d'un lenga c'è n'acca di non sono né a yello c'y di pao temare di buggyi temare dai da dai to me Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma lei pula me da pù c'è nè ca tu dia pù c'è nè c'è nè c'è nè c'è nè di bong ma da kare pù c'è nè ca chà mè na po ch'è nè ca chà mè tà ho po ch'è nè Pura chi é di ma apú thama lumi da pù c'è nè ca chà mè na po ch'è nè ca chà mè Pond fu Ok no? Bilo si è di ma Eishne c'è me Eishne c'è pi di ma Dekare pond fu l'along Di lo bong zang ne be Di lo mio A huo su mea Tobi a te bong zang Di da dang lom o di lo bong zang le ne Tola vana Di lo so nea uo ya Tola vana Di nea uo ya lo si è piang zi ya Ang no Ok di ma Napa le pui e Napa tong ta ma po no Di ta ma di nea uo song ni a leo yao pii sui Di ma bong ma dai me Do Eishne c'è lai pa Ehi Pilo si di ma di nea uo song Apao ma Dapu C'è naka cha me Dapu C'è naka cha me Tong pui Di lo mio tong pui eo to bi lo si ee tu Di nea uo 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 Di cei tuu kuye eo pao teo uo tebi lo Ok di lo bong zang le nebe Song ta pao le no Di nao song ma Pilo si ee Cei da ka Cei da ka ne De nea uo Pilo si ee Pog ma toi Eishne c'è Lom liba Pilo si ee Cei ton kha De ne Teong Cei ton kha Pilo si ee Di nai uo Di nea uo Ma baya Eishne c'è Luk te Pag tha Eishne c'è Tung Ma baya Pulo l'appuolo me ok di l'appuole da pulo me no veloci in c'entacca c'entacca to veloci in di ma di al ma di alle pule ma vè di il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Iiefi per me viene Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 lo sottame le so la cimeno ok di lon mio tola bilo di ronassoni a leggo yellow si è tobo ma dai me di nea lima o ma dai me e chenna katovi di ma le viettano ma che ne cari di pò te ma dai bilusi e che ne cari di ma e che ne chiamo di pia ma di neri a le ma bilusi e che ne cari che ne cari di nal sondi view già da di ching nal sondi e che ne tog che ne tog che ne tog kumyau pò ma che ne tog kumyau di dè 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 che ne cari di pò te ma dai dè 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 di lo bong zamiu no da aro navarga pui e pata ma tanpo no ok e la sui in do di a seno teme che ne cari tu vi tu piang le ma no piang le bilusi in bong ma dè vè tu echi le te cari lò lai pa e che ne cari e che ne cari dè 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 lè nga chale e che ne cari lò bì dò di di pò chigi thè ma be di pò thè ma no di vi è pò thè ma be tu dai da dai pi lo si e che ne cari pi lo si e di pò thè ma be dai da dai thà lomè ti lo bong zalè ti lo bong zamiu no stu ti lo bong zamiu no Yin ti lo sì e che ne cari dè nè tò il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Arraga sonora, che si vedesse nel caso, che ti vedesse l'altro Davide un'altra metà, in cui l'abbiamo cotto il fatto un'altra metà, così non teniamo un'altra metà, quindi tutti siamo liberati ostino. Per il bianca, si vedesse l'aplastculo, quindi siamo liberati a 3. Quindi la sua regia, il bianca è il الحia, Teren, Ne, Tong, Dengar. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 come non di loro mia non di loro bolo si è chiena kha chiena kha to bello si è di ma che di chien e di ne to di ne to toggo miau pauma dai dai to me ok tu di loro bong zang le no di non sono ma di loro bong zang le bolo si è di bolo si è di bpenka e e tra vi dalle dalle per mondiali e tra vi piang le bolo si è di ma chie le daka la ota va chie le daka la ota va bong mantain beh ok piang le bilosi e c'è l'eca te ne don le c'è l'eca tu bilosi e di ma di estu tale bau thai ma lei a lei di bau thai ma lei a lei no pu da pu lomè pu da pu bilosi e c'è l'eca chavi d'o dima da kare di ma di pu l'eca t'ai ma pu l'eca 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 da pu isc d'a ca chavi d'o a chai d'a ca chavi d'o na pu di l-eca chavi d'o a chavi d'o a cha don pu di l-eo bo zang lei no d'e ma di l-eo c'è l'eca di pu e a te ma da pu l-eca t'ai ma c'è da car napoo c'è da car tonpo no di lo pongan le no bello che chai da cari chame di ma di tecima da kare da fu chai da kha cha me na fu chai da kha cha me don fu ok di lo bong zhan nè be di lo mio di lo bong zhan nè be suyeng po no cheng de kha ne pi lo shieng po no ok di chan ma po no di da bui ne bui tong poe le bui ngapwe di ngapwe miau ye nao song nao song chan ma di niya leo di son ko ya bi suyen tu o di niya le ma di lo bong zhan le ya ne be suyeng po no cheng de kha ne pi lo shieng po hantai me di ma fu tong poe tato me no cheng de kha cha ne pu chai da kha cha tong fu di lo bong zhan le yawa bi suyeeng di niya ma chai daka chai da kha to bengo shieng di ma di nad song pao ma pone no Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 tu la vanno so che io lo si e di songo io lo si e piaccia me no ok di nabaccia puoi e patama da ma di lobo zan le ne sono ma no di lobo zan le a leo chè nè kha di ma chè rai pa bong ma dai vè chè nè kha di pao te ma vè dai 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 chè nè kha bilo shì di ma nào song dai uo di ne tog di chè yè tong kumyang ma chè yè tong kumyang ma dai 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 tu mè no kè di lò bong zang lì nè song tà bà lè no bilo shì yè nàpà chào bùi yè dù di a tang vù dè mè sù yè chè nè kha tù vi dù piang lè mè piang lè bilo shì yè di ma h lè dà kà lù mè no bong ma dai bilo shì yè nàpà nè dàmà dù chè nè kha tù mè chè nè dè nè dàmà lè chè nè khà tù vi dù chi e kuna eh lò thà lai barte ma vè dai 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 yà lo rai mè di lò tai da dai di lò po zang lì nà lè nà Be dù chi e chè n'a khà tè nè dàmà c'è nga ha to bello chi è di ma di vipao thai ma vè di vipao thai ma vè tu di lo bozzano e talo me dai 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 bello chi è c'è nga ha di nè dal le ngà c'è nga ha di ma di bau thai ma dai 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 grazie a to statesman hai si è negato te nè dal le ngà di bau lì thai ma vè di vipao thai ma vè dai 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 bello chi è c'è nga ha di ma di lo bozzano e di lo bozzano le né bè tu tò 32 3 e 5 1 ok di né alli ma di nang song né a 내용 beijo e che fa faccio di una bambina c'è neca vipo zanetti allo tempo no ti nobilo chinghaka tenetone le chinghati lecchi di insieme ad una somma di esterno di linguaggi e aggiungire il carico ad aggiungire il carico di ripong zang le dai ban non li da ban non ho spesa non li da ban non lo faccio non lo faccio ice 3 altre apresi si apri l'uomo nero questa che usa nella della tre tre il nostro corso il nostro corso il nostro corso il nostro corso www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Pudono 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 Pudono